Sarà stato il destino, la fortuna, l'unica cosa che sapevo è che ero il cane fatto per lui. In mezzo a un mucchio di cuccioli, un groviglio di zampette e codine ha scelto me. Questa. Assolutamente questa. È il più bello della cucciolata. Lo diceva a tutti. Sarà stato il destino, la fortuna, ma l'unica cosa che sapevo è che ero il cane fatto per lui. Ah, ti piace? Mi piaceva, l'adoravo. Nelle corse da tua auto va dove vanno i tuoi occhi. Non sono proprio un amante dei cani. È più una persona che un cane. Danny era affascinato dal suo aspetto. Probabilmente faceva il bagno tutti i giorni. Fissa sempre le persone in quel modo. Se gli piacciono, sì. I migliori piloti non pensano al futuro o al passato. I migliori piloti si concentrano solo sul presente. Enzo! Nessuno sa quali ostacoli la vita ti metterà davanti. Ma se un pilota ha il coraggio di crearsi la propria strada, la pioggia resterà semplicemente pioggia. Ma ora l'unica cosa che voglio è un ultimo giro. Più veloce, Danny! Più veloce! Oh, tesoro, vieni qui! Deve essere incredibile avere un corpo in grado di portarsi dentro un'intera creatura. Speravo solo che assomigliassi a me. Ciao ragazzi! Sapete qual è la storia portata più volte sul grande schermo? Quella di Cenerentola, di cui sono state girate 106 versioni, comprese quelle pornografiche, a cartone animato, i balletti, le opere e le parodie. Mentre l'autore più trasposto al cinema è sempre lui, William Shakespeare. Primo fra tutti, Amleto. Grazie per la vostra attenzione. Vi ricordo che potete seguirci anche su TikTok. In infobox trovate il link. Ciao da Valeria!